Siamo con Mirko Bormolini qui a Livigno. Buongiorno Mirko. Allora quest'anno è iniziato un'estate un po' diversa dal solito. Sì, siamo ripartiti, il bello è questo, quindi ci siamo ancora, siamo riaperti qua a Livigno in una situazione un po' diversa dalle solite estati. Ecco, cos'è cambiato rispetto agli altri anni normalmente? Soprattutto la prevenzione che abbiamo verso il cliente, quindi tutta la struttura è stata sanificata e abbiamo tutte le precauzioni per accogliere i nostri ospiti in sicurezza. Ecco, io ho fatto un giro qui a Livigno, in questa oretta che ero prima di venire, ho notato che però i turisti sono tranquilli, è abbastanza tutto normale, ecco, per cui mi confermi che c'è questa normalità anche nel paese, negli eventi, nel tutto ciò che è la vita quotidiana. No, la vita quotidiana trascorre e passa normalmente, solo che con appunto questo problema del Covid che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo dovuto prendere delle precauzioni, quindi in tutta sicurezza abbiamo solo fatto sì che la nostra struttura sia più accogliente, più ospitale anche per il cliente, in maggiore sicurezza. Benissimo, allora diamo un messaggio positivo che ci guarda, vogliamo invitare gli ospiti a venire in tutta tranquillità qui a Livigno, vogliamo dare i dati per potervi contattare? Certo, certo, certo. Allora, noi siamo riaperti, ci trovate sul nostro sito internet che è www.garnioasi.it, ci trovate anche tramite email, al nostro indirizzo email che è info-garnioasi.it e ci trovate anche nel vostro canale. Benissimo, allora, buon'estate a Mirko e a tutti gli ospiti che ci guardano, a presto. Grazie, buona estate e vi aspettiamo presto all'Hotel Garnione.